Exoratix, ecco qui a voi Peugeot 308, motore 2000 blu HDI con 180 cavalli, la troviamo oggi nell'allestimento GT in questa fantastica colorazione nera, classicissima. Possiamo spostarci nella parte laterale già e vedere questo fantastico cerchio e lega bicolor del raggio di 18. Andando poi nella parte posteriore, troviamo un serbatoio da 53 litri e un ampio bagagliaio della capienza di 412 litri. Abbiamo ovviamente il sensore di parcheggio sia frontali che posteriori, retrocamera. Nella parte abbinatore possiamo trovare i nostri interni in pelle alcantara con queste fantastiche cuciture rosso, volanti in pelle con comando al volante per gestire lo smartphone e totalmente il cruise control, palettine a lato del volante per gestire la velocità, schermino touch dal quale possiamo gestire infotainment, navigatore e tutto il veicolo, cambio automatico e freno di stazionamento automatico. Questo è stato immatricolato nel 2017 e alimentato a diesel con 55.700 km. Vieni a visionare queste altre pregiù sul nostro sito rapax.com